Il tema della sostenibilità noi l'affrontiamo da molto tempo all'interno della nostra azienda, sia all'interno che negli investimenti che noi facciamo. Oggi abbiamo presentato al Salone un panel dedicato alla sostenibilità nella filiera del Made in Italy, portando qui il Presidente della Camera della Moda Capasa, Livia First di EcoAge, con un testimone dell'eccezione che è Iver Zigova, che è oggi madrina di società che sviluppano il loro business nel tema della sostenibilità e noi pensiamo che questo sia il modo sul lungo termine di creare valore e di consenso approfitto per le imprese. Sì, diciamo che ormai stiamo abbandonando quello che veniva definito il greenwash, cioè giusto parliamo, però in effetti era più che altro uno stemma, ma nella realtà non succedeva nulla. Oggi, soprattutto le nuove generazioni, sono molto attente ai temi green e il compito strato delle società di gestione è quello di affrontare dall'interno delle società in cui si va a investire governance, processi e l'intera filiera per verificare che effettivamente i principi della sostenibilità vengano applicati. Dunque, sarà un trend di lungo periodo. Dunque, sarà un trend di lungo periodo.